siamo in diretta siamo in diretta ok aspettiamo un secondo che si colleghi qualcuno e poi iniziamo bene buongiorno buongiorno a tutti da Matteo Gracis io sono un giornalista indipendente e un pensatore libero e spesso confuso oggi è il giorno martedì 28 aprile 2020 e io trasmetto da un piccolo paesino nel cuore delle dolomiti bellunesi allora con questo titolo di diretta insomma si rischia la censura ancora prima di iniziare a parlare no o qualcuno magari da oddio adesso complotti a non finire no 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 nessun complotto prometto non parlerò di nessun complotto non sono un complottista non sono un novax non sono un terrapiattista sono semplicemente un giornalista e appunto un libro pensatore che si pone molte domande e che trova purtroppo poche risposte ora mia madre questa mattina al telefono mi ha detto Matteo in questo periodo ti sento un po' irascibile mi sembri un po' irritante facilmente irritante e io le ho risposto no no mamma non sono facilmente irascibile sono proprio incazzato nero nel senso che sono sono incazzato nero lo ammetto sono incazzato nero perché perché di sì perché continuano a privarmi continuano a privarci delle nostre libertà fondamentali con delle motivazioni che per me spesso non stanno molto in piedi e quindi e quindi ecco risposto così a mia madre risposto che che sono proprio incazzato e devo dire che rivendico anche questo diritto essere incazzato anzi dirò di più penso che chi non si è incazzato in questo momento storico che stiamo vivendo non sia molto sano di mente cioè io ho proprio voglia di uscire dal balcone dalla finestra come quel film storico no e non di cantare dal balcone magari magari lì in italiano ma 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 di urlare sono incazzato nero e tutto questo non lo sopporterò più qualcosa del genere comunque dai devo cercare di mantenere i toni insomma i toni bassi di mantenere la calma perché ho tante cose da dirvi oggi mi sono segnato molte cose come come alcuni già sapranno soprattutto quelli che mi seguono da un po non do risposte non ho soluzioni quindi se cercate quelle da me non le trovate io ho sempre molti dubbi perplessità e queste condivido l'articolo 21 della costituzione italiana mi garantisce di poterlo fare ora se dovessero censurarmi questo video come già successo con un video passato pazienza insomma si va avanti vi invito a seguirmi sul mio canale telegram che a quanto pare una piattaforma ancora libera e quindi e quindi ecco su telegram se volete potete iscrivervi al mio canale per mantenere i contatti col sottoscritto partiamo partiamo subito perché ho ben 14 15 link notizie curiosità input che voglio condividere insieme a voi oggi e quindi e quindi iniziamo voglio subito dire una cosa ho letto sul sito di la repubblica oggi citerò solo fonti tra virgolette non dico istituzionali ma quasi quelle fonti che 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 arrivano dal mondo dei mass media che quindi nessuno mette in discussione no perché i mass media ci raccontano sempre la verità la task force governativa è stata fatta per insomma limitare la disinformazione che gira sul web riguardo il coronavirus per quanto riguarda i video dei blogger degli influencer non per limitare gli articoli dei mass media perché i mass media ripeto ci dicono la verità e quindi io farò vedere vi proporrò delle riflessioni esclusivamente da notizie che provengono da fonti ben 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 chiare eh di di giornali di quotidiani di siti web spesso a tiratura nazionale ora questa è la notizia di eh di qualche giorno fa no pubblicata sul sito di la repubblica coronavirus youtube fermerà i video che contraddicono l'oms l'organizzazione mondiale della sanità ok ne prendo atto allora visto che i video che io faccio qui in diretta su facebook poi li pubblico anche su youtube piccola parentesi nei video che pubblico su youtube riporto tutta la lista dei link delle notizie che cito quindi poi chi volesse andare a verificare o ad approfondire quello che sto dicendo può farlo su youtube allora visto che anch'io chiusa parentesi utilizzo la piattaforma youtube devo rispettare il loro regolamento quindi oggi non voglio assolutamente contraddire l'organizzazione mondiale della sanità e infatti non parlerò di scienza parlerò di altre cose ok quindi visto che in questo articolo della repubblica viene spiegato come youtube oscurerà e fermerà i video che contraddicono l'organizzazione mondiale della sanità per quanto riguarda tutte le argomentazioni scientifiche io non parlo di scienza così mettiamo le cose in chiaro youtube può dormire sogni tranquilli nei miei confronti allora ho provato ad ascoltare la conferenza stampa del nostro premier di conte di due giorni fa e non ci ho capito niente cioè mi è sembrata una specie di supercazzola non è una parolaccia nel senso che non sono riuscito a capire che cosa che cosa volesse dire pensavo che la fase 2 fosse effettivamente una fase 2 invece mi è sembrata una fase 1 con con bis o quasi invece una cosa che mi ha stupito è stata un'affermazione che ha fatto il nostro premier qualche giorno fa il 21 aprile allora riprendendo la sua dichiarazione dal sito dell'ansa ok dal sito dell'ansa questa era la sua dichiarazione conte mascherine finché manca il vaccino ok quindi finché non arriverà il vaccino saremo costretti all'utilizzo delle mascherine ok quindi questa è la notizia ma viene da sé pensare che secondo conte e secondo il nostro governo la soluzione definitiva e ultima per la crisi sanitaria del coronavirus sia il vaccino ok e qui e qui iniziano le mie più le mie prime grandi perplessità ora dal sito dell'agi aprendo agi agenzia italia aprendo che il virus è mutato in almeno 30 ceppi ok secondo un grande studio realizzato da un'università cinese gli studiosi affermano che i loro risultati sono i primi a dimostrare che la mutazione potrebbe influenzare la gravità della malattia e ci sono oltre 30 ceppi e allora mi domando no ma come come pensate che funzioni questo vaccino che ci dovrebbe salvare tutti se il virus è già mutato in 30 ceppi cioè faremo 30 vaccini ci vaccineremo ogni volta per un ceppo diverso e no perché se conte ci dice che dobbiamo tenerci le mascherine finché non arriva il vaccino due più due fa quattro no e quindi mi sorge questo primo grande dubbio 30 ceppi ma un vaccino come funziona non ho trovato delle risposte non è che il vaccino che stanno cercando coprirà tutti questi ceppi e ci faremo noi un vaccino per il ceppo italiano mentre in cina ne faranno un altro per il ceppo cinese ma se poi io prendo un aereo e vado a pechino o se un cinese prende un aereo e viene a roma che cosa succede prima grande domanda cui non trovo risposta la seconda grande domanda è questa sempre dal sito dell'agi agenzia italia non c'è prova che i guariti siano immuni dal covid lo dice l'oms lo dice l'organizzazione mondiale della sanità non c'è prova che i guariti siano immuni dal covid e quindi la seconda grande domanda riguardo il vaccino ma se ci sono 30 ceppi e se l'oms ci dice che chi guarisce non è immune dal coronavirus a cosa serve un ipotetico vaccino a un'altra grande domanda a cui a cui per adesso non trovo risposta ora è uscita un'altra bella notizia però nel frattempo una settimana dopo il 27 aprile dall'ansa coronavirus 4 milioni di test sierologici in italia entro fine maggio bene quindi iniziamo dai test sierologici allora questa questa commessa è stata è stata vinta dalla abbott la abbott è una casa farmaceutica una grande casa farmaceutica che ha un fatturato di circa 18 miliardi di dollari americani l'anno nulla di strano c'è un piccolo particolare però in questi test sierologici che io l'ho fatto l'ho già fatto l'ho fatto attraverso una clinica privata eccolo qui questo è il test sierologico ed è lo stesso che vogliono fare a 4 milioni di persone in italia ok io l'ho fatto attraverso una clinica privata qualche giorno fa spendendo o meglio buttando via 50 euro perché questo è il costo che io ho dovuto sostenere per farlo in forma privata il test è risultato negativo ma mentre proprio lo stavo facendo gli stessi infermieri che mi hanno fatto questo test mi hanno detto guarda se risulti positivo al 95 per cento questo test è attendibile ma se risulti negativo non sappiamo nemmeno noi la percentuale di attendibilità di questo test non solo mi hanno anche detto che secondo tutti i sintomi che io ho avuto ormai più di un mese fa avevo fatto un video in cui raccontavo insomma che ho avuto dei sintomi insomma che potevano essere collegati al covid 19 avevo avuto tre giorni di febbre dolori muscolari perdita totale dell'olfatto e del gusto e altri sintomi secondo questi infermieri che mi hanno fatto questo test molto probabilmente io il covid 19 me l'ero fatto ciò nonostante il test per me è stato negativo sì per due motivi principalmente e me l'hanno spiegato gli infermieri che me l'hanno fatto il primo motivo è che molto probabilmente il covid che io ho fatto si è sviluppato in maniera molto soffice tra virgolette molto lieve rispetto ad altre forme molto più aggressive e facendo il coronavirus in questa maniera in questa maniera lieve non si sono scatenati gli anticorpi e quindi il test sierologico non li vede il secondo motivo potrebbe essere che il ceppo di covid 19 che io ho fatto oltre un mese fa non è il ceppo che questo test sierologico riesce a individuare conclusione questo test sierologico è fuffa ciò nonostante ve lo faccio rivedere in pompa magna abbiamo annunciato che a breve entro fine maggio faremo 4 milioni di test sierologici regalando una cifra x non definita alla abbot questa grande azienda farmaceutica dal fatturato stratosferico ha senso non lo so vedete voi io come vi ho detto non ho risposte c'è da dire che qualche dubbio e perplessità continua ad avanzare perché ripeto questo test sierologico vale quasi zero andiamo avanti andiamo avanti entriamo nel favoloso mondo dell'oms l'organizzazione mondiale della sanità youtube come vi ho fatto vedere ha annunciato chiunque contraddica l'oms verrà censurato cavolo vuol dire che si fidano ciecamente dell'oms no questo organo che non si può mettere in discussione e che nemmeno io metterò in discussione no però voglio farvi vedere un po di cose riguardo l'oms perché in questi giorni ho fatto un po di ricerche ho spulciato ho fatto un po di lavoro che secondo me è il lavoro che dovrebbero fare i giornalisti ovvero quello di andare a cercare delle informazioni che vanno oltre il titolo che vanno che vanno oltre magari alla prima pagina e adesso vi faccio vedere un po di collegamenti un po di cose particolari che ho trovato riguardo l'organizzazione mondiale della sanità questo ente che non si può nemmeno mettere in discussione quindi dovrebbe essere cristallino no dovrebbe essere veramente sopra ogni dubbio è allora ho trovato il bilancio dell'oms direttamente dal loro sito è dell'organizzazione mondiale della sanità world health organization del 19 aprile 2018 il bilancio dell'organizzazione mondiale della sanità dell'oms ora nel bilancio se cerchiamo ad esempio una delle più importanti case farmaceutiche del mondo la glaxco troveremo due voci eccola qui la glaxco nel 2017 ha finanziato l'organizzazione mondiale della sanità prima con 7 milioni di euro e successivamente si ritrova la glaxco per un contributo di 24 milioni di euro insieme alla glaxco ci sono altre case farmaceutiche molto famose come la bayern la johnson and johnson eccetera eccetera signori questo è il bilancio dell'oms non è la fonte di matteo gracis sia chiaro ok come vi ho detto poi vi lascio tutti i link nella descrizione ognuno potrà andare a verificare quindi apprendiamo dal bilancio ufficiale dell'organizzazione della sanità che nel 2017 la glaxco una delle più grandi case farmaceutiche del mondo così come la bayern ha dato dei soldini per delle consulenze per dei servizi all'organizzazione mondiale della sanità ora magari non c'è nulla di male ma non sentite un po di puzza di conflitto di interessi vedete voi io sì nel senso che se l'organizzazione mondiale della sanità è quell'ente che decide quale farmaci noi poi prenderemo o quali vaccini saranno obbligatori e contemporaneamente viene finanziata dalle aziende che producono quei farmaci e sui quali farmaci ci fanno miliardi di euro e miliardi di dollari ogni anno il conflitto di interesse mi sembra che sia abbastanza palese ma questo non è complottismo non buttiamola ogni volta in cacciara sono sono delle informazioni alla luce del sole il complottismo è nascosto queste cose qua invece non sono nascoste sono nel bilancio dell'organizzazione mondiale della sanità non ve le sta dicendo matteo graci si io semplicemente ve le spongo ve le sottolineo ma andiamo avanti riguardo la questione dell'oms e delle case farmaceutiche la glaxco che vi ho citato voi potrete dirmi beh cosa vuoi è una casa farmaceutica è un'azienda farmaceutica è giusto che anche loro facciano il loro lavoro no assolutamente sì se poi sono bravi a farlo sono ben organizzati ben strutturati e quindi guadagnano miliardi di euro ogni anno nulla di male sono d'accordissimo con voi peccato peccato però che se poi noi andiamo a guardare la storia di queste aziende oddio crolla un po il paico qual è la storia di queste aziende prendiamo appunto la glaxco che è una delle più famose e andiamo a vedere la storia della glaxco sul sito wikipedia anche qui è senza andare a cercare grandi fonti alternative wikipedia alla luce del sole questa è storia la glaxco è una casa farmaceutica britannica ok andiamo giù perché una dei capitoli più importanti nella storia della glaxco è questo sono le controversie allora andiamo un attimo a vedere le controversie che ha avuto la glaxco nella storia senza tenervi qua un giorno intero poi potrete andarvele a guardare tranquillamente ve ne leggo alcune nel luglio del 2012 la glaxco è stata condannata per il più grande caso di frode sanitaria negli stati uniti in seguito a questo ha accettato di pagare un risarcimento di 3 miliardi di dollari il quale costituisce il più grande risarcimento pagato da una casa farmaceutica l'accordo è correlato alla promozione illegale di prescrizioni di farmaci da parte dell'azienda al fatto di non aver riportato correttamente i dati di sicurezza di utilizzo alla corruzione di medici alla corruzione di medici e alla promozione di medicine per usi non autorizzati hanno patteggiato vuol dire che hanno ammesso la colpa e hanno pagato un risarcimento di 3 miliardi di dollari è solo una delle tantissime condanne che ha avuto questa grande casa farmaceutica nella sua storia ci sono decine di cause che hanno patteggiato è un continuo cioè stiamo parlando di tutto il mondo ok a caso nel 2004 la glaxco ha accettato di patteggiare la condanna per frode ai consumatori pagando 2 miliardi e mezzo di dollari il farmaco quel tempo aveva un ricavato annuale eccetera eccetera nel 2007 è stata dichiarata colpevole da parte della della corte distrazionale di 15 reati collegati alla condotta forviante nei confronti del patto di libero scambio quasi ovunque porto ricco cioè non so allora andiamo avanti nel 2003 ha firmato un accordo interchietà aziendale ha pagato 88 milioni di dollari in una causa civile per sovrappesso dell'antidepressivo nel 2004 la guardia di finanza quindi riguarda l'italia accusò 5000 persone per corruzione tra le quali 273 impiegati della glaxco secondo l'accusa la glaxco e le aziende le precedenti hanno speso 152 milioni di lire in regali per i medici e i farmacisti ora ripeto se volete andate sulla pagina di wikipedia e cercate glaxco e vi ritroverete la loro storia capite bene che è lecito non fidarsi ciecamente di questi colossi allora il pazzo quello malsano di mente è chi si pone questi dubbi o chi accetta in maniera incondizionata le soluzioni che ci propongono questi signori pongo tutte queste domande perché non si sa mai no sempre rimanendo in chiave glaxco sono andato a spulciare il loro report che ve lo faccio vedere eccolo qua documento loro è fatto da loro su carta intestata e questo è l'anno di rendicontazione 2017 qui la cosa che risulta abbastanza curiosa è che se noi cerchiamo istituto troviamo all'interno del bilancio della glaxco del 2017 una spesa è un contributo donato all'istituto superiore di sanità per 93 mila 940 euro ora nel bilancio quindi ufficiale della glaxco del 2017 c'è un contributo al nostro istituto superiore di sanità di 93 mila euro perché per cosa perché una casa farmaceutica deve contribuire all'istituto superiore di sanità pagando 93 mila euro per dei servizi e delle consulenze ma anche qui non c'è puzza di conflitto di interessi o sono io un complottista io faccio delle domande poi magari qualcuno mi dice guarda no assolutamente l'hanno fatto per questo per quell'altro il problema è che l'istituto superiore della sanità in italia così come l'oms a livello globale sono quegli enti sono quelle istituzioni che ci dicono poi quali farmaci utilizzare o quali vaccini è obbligatorio farsi allora nel momento in cui queste case farmaceutiche producono quei farmi quei farmaci dovrebbero essere distanti anni luce da questi enti non finanziarli altrimenti casca al palco altrimenti come minimo io devo pormi queste domande e condividerle con voi o no o devo accettare queste cose in maniera incondizionata nonostante la storia di questa azienda farmaceutica sia colma strapiena di scandali di reati di condanne di risarcimenti di patteggiamenti ma non lo so vedete voi ora io sono convinto che in molti di voi non sappiano che in italia c'è un vaccino obbligatorio prima già del decreto lorenzin obbligatorio prima quindi che diventassero 11 vaccini obbligatori quando ce n'erano solo quattro qualche anno fa uno di questi quattro è stato reso obbligatorio in italia a fronte di una tangente al nostro ex ministro della salute il signor de lorenzo e in molti dicono scanto cosa stai dicendo pazzo complottista no vax no fermi tutti fermi tutti perché è storia andiamo a vedere insieme è storia forse in molti non la sanno semplicemente nel 1994 l'ex ministro della sanità francesco de lorenzo viene arrestato in relazione a tangenti per circa 9 miliardi di lire ottenute da industriali farmaceutici dal 1989 al 1992 durante il suo ministero per questo verrà poi condannato in via definitiva a cinque anni e quattro mesi di reclusione ok eccolo qui eccolo qui il nostro ministro della salute in quegli anni lui finì all'interno del grande scandalo di tangentopoli ok ecco il vaccino per l'epatite b che è obbligatorio dal 1991 è stato reso obbligatorio da questo ministro de lorenzo a fronte di una tangente pagata dalle case farmaceutiche tutto questo non è un complotto questa è storia basta ripeto fare due ricerche senza andare neanche a scovare cose strane in qualche blog alternativo semplicemente andando a leggersi i vecchi articoli di giornale che raccontano questa storia ok insieme al signor de lorenzo quegli anni c'era un altro signore che è interessante approfondire e qua ritorniamo rientriamo dalla porta d'uscita nel mondo dell'organizzazione mondiale della sanità era il signor duilio poggiolini che in molti non avranno neanche mai sentito nominare anche perché si parla di fatti che ormai risalgono a oltre 30 anni fa chi era duilio poggiolini guardate mi sono preso la briga di andarmi a recuperare un articolo del corriere della sera del 1991 ok corriere della sera corriere della sera del 1991 anche qua poi vi lascerò chiaramente il link con la schermata potete leggervi tutto fare le ricerche ora chi era duilio poggiolini perché ci stai parlando di questa persona cosa c'entra l'oms cosa c'entrano i vaccini bene duilio poggiolini fu negli anni 90 il direttore generale del servizio farmaceutico nazionale lo ripeto fu il direttore generale del servizio farmaceutico nazionale nove anni prima nel 1981 indovinate un po' che ruolo aveva il caro duilio poggiolini era il rappresentante italiano dell'oms per il programma sui farmaci essenziali duilio poggiolini 1981 rappresentante organizzazione mondiale della sanità e nove anni dopo direttore generale del servizio farmaceutico nazionale sapete perché vi parlo di duilio? perché il signor duilio quando fu arrestato nel 1991 sentite cosa disse ai giudici mentre lo interrogarono vi parlerò dei meccanismi che regolano il sistema farmaceutico e vi racconterò degli uomini che fanno girare gli ingranaggi non dimenticate d'altronde che i ministri della sanità sono sempre stati espressione dell'industria farmaceutica non l'ho detto io non l'ha detto Matteo Gracis non l'ha detto qualche complottista l'ha detto il signor duilio poggiolini che nel 1981 era il rappresentante italiano dell'oms e nel 1990 era il direttore generale del servizio farmaceutico nazionale una persona che da quella testimonianza fece partire 14 ordini di custodia cautelare ci fu uno scandalo ok in cui misero in prigione ministri ex ministri della salute italiani questo duilio fu pescato perché entrò in latitanza dalla pagina wikipedia di duilio poggiolini potete andare a leggere tutto quanto il 20 settembre del 93 venne arrestato a losanna in svizzera per via di una serie di accuse legate a manipolazioni e tangenti nelle procedure di gestione del servizio sanitario in favore di grandi aziende farmaceutiche poggiolini aveva tentato la fuga ma la latitanza era stata di poche settimane perché questa è gente che scappa quando viene pescata con le mani nella marmellata e il signor duilio poggiolini ricordo e sottolineo ex rappresentante dell'oms quell'ente che oggi non possiamo mettere in discussione e nessuno di noi lo fa e successivamente direttore generale del servizio farmaceutico nazionale ovvero colui che decide quali farmaci gli italiani dovranno utilizzare fu arrestato anche lui e disse e disse che i ministri della sanità sono sempre stati espressione dell'industria farmaceutica se voi continuate a parlare di complotti non continuerete a non capire nulla di tutte queste cose qui non stiamo parlando di complotti questa è storia mettetevelo in testa eduilio poggiolini insieme all'ex ministro della salute De Lorenzo nel 1991 inserirono il vaccino obbligatorio all'epatite B a fronte di una tangente per la quale furono condannati in via definitiva e arrestati quel vaccino il vaccino per l'epatite B ancora oggi nel 2020 è all'interno dei vaccini obbligatori se per voi tutto questo è giusto sensato eccetera a posto così per me invece c'è qualcosa che non funziona in tutto questo meccanismo quindi ritengo sia lecito porsi perlomeno delle domande o avanzare dei dubbi nei confronti di questi enti e di queste grandi istituzioni che oggi sembrano intoccabili noi non dobbiamo assolutamente mettere in discussione le nostre autorità o questi enti come l'istituto superiore della sanità o l'OMS che abbiamo appena visto quanti scheletri nell'armadio hanno e basta andare ripeto a rileggersi la storia tra i vari servizi tra i vari contenuti che ho avuto modo di affrontare in questi giorni in questo periodo ho trovato un bell'articolo che vi consiglio di leggere sempre cercando di prendere le cose con le pinze senza sempre cadere in quegli schieramenti da tifoserie da curva dello stadio perché non ci portano da nessuna parte non è che esiste solo il nero il bianco esiste anche il grigio quindi cerchiamo di approfondire questi argomenti mantenendo un po' di lucidità un po' di senso critico e cercando di confrontarci senza tacciare una persona di essere appunto o un no-vax oppure un pro-vax piuttosto che un comunista e se non è comunista è per forza fascista cioè andiamo un po' oltre cavolo perché dobbiamo continuare a incancrenirci in queste paludi che poi ci sono da sempre il dividite ti impera signori è roba di millenni fa hanno sempre fatto le stesse cose per dividerci e continuare a fare gli affari loro perché non proviamo a fare un salto no? di andare un po' oltre ora tra i vari contenuti vi segnalo questo articolo di cui vi lascerò il link come tutti gli altri pubblicato da renovatio21.com di un analista americano ed è interessante questo articolo il titolo è vaccini e conflitti di interessi possiamo fidarci dell'OMS? ecco mi piace perché c'è una domanda nel titolo a me le domande mi piacciono possiamo fidarci dell'OMS? perché dobbiamo fidarci nella incondizionata? poniamoci almeno la domanda andiamo a svisciare le cose e poi giustamente l'OMS si difenderà o meglio ci darà tutte delle spiegazioni in merito nel frattempo i bilanci dell'OMS sono cambiati e ora arriviamo un po' al presente ci avviciniamo un po' a quel Bill Gates che sta arrivando per salvarci tutti ecco dal 2018 sono spariti dai bilanci dell'OMS le case farmaceutiche questo è l'attuale non il bilancio però diciamo è il grafico che rappresenta i finanziamenti che riceve l'OMS l'Organizzazione Mondiale della Sanità come vedete al primo posto ci sono gli Stati Uniti d'America Stati Uniti d'America che con Trump di recente hanno annunciato di voler togliere i finanziamenti all'Organizzazione Mondiale della Sanità non mi interessa entrare in questo argomento giusto sbagliato folle insensato ripeto se volete approfondite da soli voglio segnalarvi però che al secondo posto tra i finanziatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità c'è questa fondazione di Bill e Melinda Gates e poi ci sono altri stati come l'Inghilterra la Germania il Giappone c'è questa alleanza Gavi Alliance che non ho ben capito di che cosa si tratti probabilmente le case farmaceutiche sono state buttate all'interno di quel pentolone perché così si faceva meno effetto non ho idea non lo so fatto sta che al secondo posto tra i più grandi finanziatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità c'è Bill Gates e la sua fondazione ora Bill Gates Bill Gates Bill Gates ha annunciato di recente che se verrà trovato il vaccino per il coronavirus lo pagherà lui lo pagherà lui di tasca sua bene però sapete com'è Bill Gates è uno degli uomini più ricchi del mondo per molti anni è stato il più ricco del mondo non so voi ma io sono portato a diffidare un po' della persona più ricca del mondo mi viene naturale nel senso che se penso anche alla storia del nostro passato i grandi benefattori dell'umanità non sono mai stati quelli che possedevano più risorse economiche di tutti o quelli che nella loro vita erano riusciti ad accumulare più ricchezza anzi anzi a partire da San Francesco d'Assisi a Gandhi a Nelson Mandela insomma i grandi benefattori dell'umanità che io sappia erano persone che invece avevano poco e niente e che avevano speso la loro vita non per accumulare denari ma per fare del bene quindi che ora mi si venga a dire che Bill Gates sarà il salvatore dell'umanità perché pagherà lui di tasca sua l'eventuale vaccino del coronavirus se permettete mi lascia un po' perplesso ma indipendentemente dalla mia perplessità e dal fatto che Bill Gates abbia costruito la sua fortuna non tanto sulla sua genialità ma sul fatto che sia riuscito a non scippare ma a comprare a molto basso costo quel programma che si chiamava DOS e che poi lui è riuscito a sicuramente valorizzare e rivendere meglio di chiunque altro insomma la dice anche molto lunga sul business di Bill Gates in questi ultimi decenni ma questa è un'altra storia che chiunque di voi potrà andare ad approfondire di recente io ho visto un documentario su Bill Gates trasmesso da Netflix un documentario in cui viene fuori una figura angelica cioè dopo quattro puntate Bill Gates sembra che sia l'angelo sceso in terra questa persona che legge tutto il giorno che va a giocare a carte nel bar sotto casa insieme a Warren Buffett altro mega multimiliardario una persona semplice umile mi ha fatto un certo che mi ha fatto un certo che perché di sì detto questo anche in questo caso ho fatto un paio di ricerche un po' più approfondite sulla figura di Bill Gates e anche qua senza voler cadere nel complottismo becero o in cose simili vi invito a leggere un articolo che ho letto anch'io pubblicato dal The Nation che è una rivista particolarmente indipendente nel panorama mainstream americano e questo è un bel articolo su Bill Gates tradotto è questo il paradosso della carità di Bill Gates un'indagine sulla fondazione della nazione del The Nation scusate illustra i rischi morali che circondano l'impresa benefica della fondazione Gates da 50 miliardi questo articolo datato 17 marzo 2020 è scritto molto bene e va ad approfondire chi sono insomma tutte le persone che ruotano intorno al mondo di Bill Gates del nuovo salvatore della patria e dell'umanità vi invito a leggerlo perché trovo giusto che anche voi come me vi facciate una bella idea su chi è Bill Gates su che cosa sia la sua fondazione su quali siano le realtà che ruotano intorno a questa fondazione oh guardate un po' ma guarda che strano torna fuori questa Glaxco tra le aziende che hanno a che fare con la fondazione Gates ma pensa un po' te questa Glaxco no? la ritroviamo spesso ad ogni modo vi lascerò il link è molto interessante e va letto in maniera approfondita per farsi un'idea su chi sia su chi sia Bill Gates ecco mi sembra di avere anche oggi proposto un po' di materiale poi valuterete voi se è materiale interessante se vale la pena approfondire eccetera 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 volevo parlare un secondo anche della app la app Immuni attenzione perché il governo italiano si è messo al lavoro si è messo al lavoro per riuscire a darci una soluzione high tech alla questione covid-19 ora cosa dire sulla app Immuni ci sono anche qui tante cose che andrebbero dette voglio fare una piccola premonizione secondo me la app Immuni sarà una grande patacca magari mi sbaglio anzi mi auguro di sbagliarmi ne riparleremo quando verrà lanciata quando verrà messa in funzione e quando vedremo se effettivamente ci porterà a dei benefici io ho paura che come spesso è successo quando si aveva a che fare con il mondo dell'high tech dei siti delle applicazioni il governo italiano non gestirà proprio alla grande anche questa cosa trovo abbastanza ridicolo poi che si voglia buttare fuori un'app che non si può obbligare le persone a scaricarsi perché non si può obbligare le persone l'hanno già stabilito perché violerebbe tutta una serie di leggi quindi si inviterà le persone ad utilizzarla dovete però sapere che perché questa app funzioni deve essere scaricata da circa l'82% delle persone che in Italia posseguono uno smartphone dall'82% che è una cifra enorme soprattutto considerando che non può essere obbligatorio utilizzare questa app quindi ci saranno degli incentivi dei premi per poterla scaricare ma in questo modo in maniera diretta si andrebbe a penalizzare tutti quelli che non la scaricherebbero e sapete quali sono le prime fasce che si penalizzerebbero sarebbero le fasce più deboli perché andate voi a spiegare a un anziano di 80 anni che si deve scaricare un'applicazione che si chiama Immuni e deve utilizzarla in un determinato modo perché funzioni mi sembra come tante cose che il nostro governo sta facendo un ennesimo tentativo per rattoppare i buchi di una barca che sta andando a fondo ma magari è solo una mia idea sbagliata ripeto spero di sbagliarmi ma vedremo quel che sarà anche in questo caso vi lascio comunque con un eventuale approfondimento di un bel articolo che ho letto su Esquire.com perché è giusto criticare un'app come Immuni vi lascerò chiaramente anche il link così se volete potete approfondire bene signori vi ho tenuto anche troppo per oggi spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto spero di avervi dato di avervi instillato qualche input che voi possiate eventualmente approfondire condividere che vi faccia pensare vi invito a condividere questo video se ritenete giusto portare all'attenzione anche di altre persone questi argomenti che purtroppo i nostri giornalisti del mainstream non trattano e io mi domando il perché perché insomma sono temi abbastanza importanti credo visto che stiamo iniziando a parlare di un nuovo vaccino dell'organizzazione mondiale della sanità dell'istituto superiore di sanità dell'obbligatorietà di determinate nuove azioni per contenere per risolvere questa crisi perché non affrontiamo queste questioni perché dobbiamo accettare queste cose calate dall'alto non so ma a me non piace molto e infine vi lascio con una riflessione mi sto domandando sempre più in maniera aggressiva perché il governo italiano ci obbliga a utilizzare le mascherine a metterci i guanti a rimanere chiusi in casa a non creare assembramenti a non spostarci perché probabilmente ci obbligherà a prenderci un vaccino perché tutto questo e perché non ci obbliga a mangiare sano perché non ci obbliga a fare sport no perché che io sappia è proprio l'organizzazione mondiale della sanità che ci dice che la gente nel mondo muore soprattutto in occidente e nei paesi benestanti perché si ciba male e non fa attività sportiva ora se veramente il governo se veramente le istituzioni se veramente questi enti hanno a cuore la nostra salute così tanto da rendere obbligatori dei comportamenti da cambiare il nostro stile di vita dal sacrificare le nostre libertà personali tutto in nome della nostra sicurezza e tutto in nome della nostra salute lo fanno per il nostro bene perché non intervengono sul nostro stile di vita riguardante la nostra alimentazione e riguardante il movimento lo sport continuo a chiedermelo e non riesco a darmi una risposta e continuo a vedere grandi pubblicità di fast food di piattaforme streaming che ci tengono seduti sul divano i tabacchini sono aperti perché comprarsi e fumare le sigarette è un bene essenziale eccetera 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 tante domande a cui non trovo risposta vi ringrazio come sempre per avermi seguito per avermi sopportato e per supportarmi se si vi va leggerò poi i vostri commenti grazie di cuore a presto buona vita ciao